Un brindisi a tutti i miei fan e a tutti i miei donatori del canale YouTube Conoscitore Italiano Ragazzi, questa birra, questo brindisi è per voi, brindo alla vostra con questa angelicata simpatica, sublime, Peroni Grazie a tutti i donatori, i fan di YouTube Italia, utente Ahab, Leonardo, Stefania, Carmen Ichi, ciao Carmen Pietro Smusi, Gianluca Caperla, Fran Ceba, Ermellino, cioè Rettiviano Illuminato Grazie caro Rettiviano Illuminato, questo è anche per te, grazie a tutti i miei fan, a tutti i miei tanti donatori che mi vogliono bene, che mi supportano ogni giorno Ragazzi, questa birra è per voi, al mio 3, un brindisi per tutti voi, scusate se mi sono dimenticato qualche nome Anche a tutti gli altri, Carmen Ichi, questo brindisi è per voi ragazzi Tc6MD, anche per te caro Marco, famoso rapper del nord Italia se non erro, Trapper, Trapper Questo brindisi è per te, alla vostra, 1, 2, 3, via Buonissima, buonissima, e ripeto ancora, buonissima, l'angelicata birra peroni Grazie, grazie, grazie ancora, grazie a tutti i fan, a tutti i donatori che ci sono nel mio canale YouTube Conoscitore italiano, per me, valete oro quanto pesate, siete grandi, quando donate, avete da me i video su misura Vi voglio bene ragazzi, vi stimo, vi apprezzo, siete la mia vita, siete tutto per me Ragazzi, guardate che bello, questo colore di questa bella peroncina Vi saluto, alla vostra ragazzi, peroni, birra tutta la vita, la birra per sempre per me Grazie, vi voglio bene ragazzi, un abbraccio